Saranno 120 gli equipaggi al via della settima edizione del rally internazionale storico Costa Smeralda, che si svolgerà dal 18 al 20 aprile sugli sterrati della Gallura, con base a Porto Cervo. Ai 70 equipaggi iscritti nel rally storico se ne sommano infatti altri 30 in gara nel rally di regolarità e gli ulteriori 20 del Martini Rally Vintage. A giocarsi le zone nobili della classifica assoluta per il campionato italiano rally autostoriche sono annunciati diversi protagonisti della massima serie nazionale, a partire dal vincitore 2023 e attuale detentore del titolo Matteo Musti, al volante della Porsche 911 RS che condividerà nuovamente con Agostino Benenti. Nella categoria media 50 spicca anche quello del presidente dell'automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani alla guida di una Fiat 124 Spyder in copia con Massimo Liverani, oltre a quello del vincitore della prima edizione del 1978 del rally Costa Smeralda, quel Maurizio Verini che rivedremo sulla Fiat X1 9 assieme a Valeria Strada. A fare da esclusiva cornice alle vetture impegnate nelle due competizioni vi saranno le 20 selezionate iscritte al terzo Martini Rally Vintage, l'autoraduno non competitivo riservato a prestigiosi esemplari da corsa in Livrea Martini Racing che si svolgerà su un percorso appositamente realizzato e che condividerà parte di quello del rally. Ulteriore chicca la presenza di Mickey Biazion nuovamente nel ruolo di apripista al volante della Chimera EV037 griffata Martini Racing